Ho raccolto parecchi rifiuti di plastica, di carta, di alluminio, pacchetti di sigarette, pacchetti di fazzoletti, parecchi rifiuti di bottiglie di birra, per esempio rifiuti organici, confezioni di medicine, carte di giornali, rifiuti organici tipo l'uva, tutte queste cose qui che purtroppo buttano per terra senza rispettare il dovere che ognuno deve avere, cioè di buttare i rifiuti dentro gli appositi cestini. E cosa ti ha insegnato questa esperienza? Innanzitutto che non bisogna rovinare quest'ambiente, soprattutto questo panorama che ci ha regalato l'Italia, che è molto bello, con questi rifiuti veramente viene rovinato, soprattutto che bisogna buttarli negli appositi contenitori e soprattutto fare la raccolta differenziata, che in questo caso sembra che non sia rispettata da nessuno. E la sintesi di un pomeriggio di agosto dedicato all'ambiente, con la passeggiata lungo la strada che conduce a Castel del Monte, alla ricerca di rifiuti gettati per strada e non deposti negli appositi contenitori. Il messaggio di educazione al rispetto della natura arriva dai ragazzi della borgata di Riva del Monte che hanno aderito all'iniziativa, con lo scopo di vedere puliti i luoghi nei quali risiedono in questo periodo dell'anno e rendere Castel del Monte più ospitale ai turisti che lo affollano. Questa iniziativa non ha lo scopo di pulire la collina di Castel del Monte, ha un valore solamente educativo, quello di passeggiare, infatti è una passeggiata ecologica, fin su all'ingresso del Castel del Monte, dotando i bambini di guanti e buste e stimolandoli a raccogliere quanto più possibile, ovviamente, di cose non pericolose. Ogni gruppo è affidato anche alla supervisione di un adulto che seguirà questi bambini. L'iniziativa è nata per idea di alcuni di noi più grandi che purtroppo quotidianamente nel passeggiare lungo la strada che porta da questo villaggio a Castel del Monte vedono quanta non educazione ambientale è presente tra la popolazione. E ci auguriamo che questi bambini, crescendo attraverso queste iniziative, possano contribuire a rendere più pulito l'ambiente. La premiazione della manifestazione si è svolta a Taverna Sforza, dove sono stati messi a disposizione dei ragazzi che hanno partecipato all'evento degustazioni di prodotti tipici del nostro territorio.